L'altra volta saltarono, c'era uno, mi stava cruzando, è che hai parte che sta oscuro, l'altra volta sta chiaro, l'altra volta sta oscuro, però penso che sia un momento, un po' di violenza. Però non è comune, non è frequente, non è diario? Non è frequente come prima, prima si è più calma, c'è più gente, non c'era più gente, non c'era più gente, non c'era più gente, non c'era più gente. E ora c'è più gente che faccia l'exercito, non? Che viene a fare l'exercito e... Però c'è gente più tardi, in la notte? No, dopo le 8, dopo le 8, non c'era più. Dopo le 8? Si, quando è tembola, le vacazioni, che viene in piscina, aumenta un po' più, 8, 9, 10, 5... E come si è freddo, non la gente non sale. Grazie.